Le tre terramane Pineto, Castelnuovo e Notaresco continuano a confermarsi le società di Serie D più attive sul fronte mercato mentre restano ferme Giulia Nova e Vastese per le quali prevalgono al momento dinamiche societarie ancora da dipanare. Un colpo da 90 l'ha messo a segno il Pineto, il presidente Silvio Brocco e il DG Roberto Giammarino hanno tesserato il forte ed esperto centrocampista Lorenzo Paoli classe 88, vecchia conoscenza delle squadre abruzzesi delle quali è stato più volte avversario nel girone F di Serie D con la maglia della Vispesaro, squadra della quale è stato bandiera e capitano e nella quale ha militato nelle ultime otto stagioni tra Serie C e Serie D collezionando oltre 260 gettoni. Il suo contratto con il club marchigiano è scaduto lo scorso 30 giugno e il Pineto non si è fatto sfuggire l'opportunità. Infoltito il pacchetto di Under con i tesseramenti di due attaccanti, Marco Di Marco classe 2003 cresciuto nell'Ascoli e proveniente dal Porto d'Ascoli e Nicolo Pantoni classe 2001 proveniente dall'Alba Adriatica. Nelle ultime ore ufficializzati il ritorno del centrocampista Francesco Esposito lo scorso anno a Vasto dopo tre stagioni pinettesi e la permanenza dell'esterno Marco Cercelluti. Dopo il gran colpo Dos Santos il notaresco si è assicurato le prestazioni del portiere di origine albanesi Clevis Sciba classe 2000, mezza stagione Giulianova e un anno e mezzo a Pineto, ora terzo club abruzzese per l'estremo difensore che ha assaporato la Serie C con la maglia della Fermana. Oltre ai neo arrivi anche una conferma importante per il notaresco il 28enne centrocampista Jesino Mattia Frulla, pilastro della scorsa stagione nella quale ha collezionato 23 presenze e 5 reti. Già a lavoro nello stagio prestagionale il Castelnuovo che nel frattempo ha annunciato la conferma di due centrocampisti Marco Donatangelo e Filippo Forò, protagonisti dello scorso campionato e l'arrivo di due attaccanti Alessandro Fagioli, classe 2000 dal notaresco e soprattutto Lorenzo Sbarbati, fermo nell'ultimo anno per motivi personali e che in precedenza aveva indossato le maglie di Re Canatese, Folgolo e Veregra, Monte Giorgio e Castelfidardo. A vasto invece non è ancora tempo di calciomercato, la società del presidente Franco Bolami con una nota ufficiale ha fatto sapere che l'Avastese non è mai stata in vendita, non c'è mai stata la necessità di rimettere la società nelle mani del sindaco e nessuna crisi è in atto. Come dirigenza stiamo lavorando per rafforzare ancora di più i nostri quadri non c'è alcuna intenzione di mollare e farci da parte. Una situazione tuttavia che fa ritardare l'allestimento della squadra anche se la stagione partirà tardi. Il Dipartimento Interregionale ha comunicato la data ufficiale di inizio del campionato di Serie D il 27 settembre, una settimana prima, 20 settembre, l'inizio della Coppa Italia con il turno preliminare.